Lil Jolie, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, 23esima edizione, ha avuto modo di raccontarsi in un'intervista. Ecco cosa ha rivelato. Scopriamo insieme tanti nuovi dettagli. Lil Jolie è stata una cantante molto apprezzata di Amici di Maria De Filippi, 23esima edizione. La ragazza è entrata nella scuola a settembre nella squadra di Rudy Zerbi ma, in seguito, è passata sotto l'ala protettrice di Anna Pettinelli. La giovane è uscita durante la sesta puntata del serale scontrandosi contro Sara, la poi vincitrice di questa 23esima edizione. Emotiva e talentuosa, la giovane Angela non si è data per vinta e subito ha iniziato a dedicarsi alla sua carriera. Intervistata da Lorella Cuccarini a dimmi di te, la cantante ha parlato del suo cambio docenti. Amici, Lil Jolie confessa. Ero piena d'ansia, l'ho sognato, pure. Ovviamente era un incubo, commenta Lil Jolie. Amici, Lil Jolie racconta il cambio da Rudy ad Anna. Amici, Lil Jolie confessa. Ero piena d'ansia, L'orella Cuccarini ha chiesto a Lil Jolie di raccontarle come ha vissuto la sua eliminazione, il prima e il dopo. Angela ha vissuto una situazione particolare in quanto era andata in sfida contro Sara durante una puntata del serale, ma Michele Bravi, uno dei giudici, non sapeva decidersi tra le due e ha fatto ripetere la sfida, la settimana dopo. A quel punto Lil Jolie è stata eliminata. Ecco come ha vissuto il tutto. L'ho sognato, pure. Ovviamente era un incubo, commenta Lil Jolie. Il pre, diciamo che ero piena d'ansia. Quando è successa quella cosa ho detto, ok, forse sta per finire veramente tutto, e quindi ho iniziato a metabolizzare la cosa per tutta la settimana. E quando è arrivato il momento della carta, diciamo che l'avevo già immaginato. Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. L'ho sognato, pure. Ovviamente era un incubo. Il mio cervello aveva provato a metabolizzarlo in quel modo. Poi, aggiunge. Se penso a mente fredda, col senno di poi, ci sono rimasta male. Invece, in quel momento, l'ho vissuta molto meglio. Sul momento ero quasi rassegnata. Anche quando ho visto la finale, ho detto, eh, sarebbe stato bello. Amici, Lil Jolie racconta il cambio da Rudy ad Anna. All'inizio, proprio a settembre, noi ci sentivamo un po' i fighetti. Di conseguenza pure io mi sentivo. Nella squadra dei fighetti. Poi non so cosa è successo. È successo qualcosa dentro di me che mi ha fatto dire. Forse non mi sento compresa appieno, e quindi poi è arrivata Anna. Inizia a narrare Angela. Poi, riprende. Questi pensieri già c'erano, nella mia testa. Non da subito, però forse nel periodo di Natale gennaio. Quindi, quando è arrivata Anna, ho detto, eh, un segno di destino che devo cogliere. E, ancora, sicuramente è stata una scelta emotiva, però io già stavo pensando che avevo bisogno di essere valorizzata un po' di più. Questi erano i miei pensieri, magari intrusivi. Però erano dei pensieri che c'erano, quindi erano sinceri. Virgolette